Bene, allora io riprendo proprio dal punto in cui Pier Mario ha detto bisogna cambiare paradigma. Devo dire che, lo premetto, sono un po' frastornato perché da due mesi parlo solo di virus e sono talmente coinvolto in questo problema della Covid che veramente faccio un po' fatica a uscire dalla problematica del SARS-CoV-2. Però ovviamente non bisogna dimenticare che pandemia a parte, questo immenso problema dell'aumento delle forme neoplastiche e soprattutto delle forme neoplastiche infantili, è uno dei grandi problemi che è stato veramente trascurato e mal affrontato, proprio perché, come adesso cercherò di far vedere, il modello dominante di cancerogenesi, ecco perché mi riaggancio a quello che diceva Pier Mario, quello dell'accumulo delle mutazioni stocastiche, quello del danno più o meno progressivo e casuale che si va ad accumulare con l'età, è assolutamente fuorviante e sempre più chiaramente proprio l'aumento dei tumori infantili dimostra che questo modello non va bene, non è l'unico problema che ha questo modello, sono tanti. Però partendo da qui credo che sia più comprensibile il nostro lavoro. Allora questa è la prima diapositiva del secondo congresso mondiale sulle origini epigenetiche delle malattie, sulle origini fetali, però fondamentalmente epigenetiche delle malattie, che si è svolto a Londra l'anno scorso e che era già la seconda appunto edizione, poi torneremo anche sulla prima. Perché in entrambe queste relazioni ci sono alcuni punti fondamentali per capire in che modo sta cambiando totalmente l'approccio per chi vuole cambiare modello e perché nei prossimi anni l'idea che il cancro sia un incidente genetico da bombardare, speriamo che venga veramente ridimensionata. È un'idea pericolosa, è un'idea riduzionista, è un'idea fondamentalmente sbagliata. Se fosse veramente così, cioè un incidente genetico legato a mutazioni stocastiche del DNA non aumenterebbe così come sta aumentando, ma soprattutto non aumenterebbe per esempio nei primi due anni di vita, dove non ci può essere un accumulo di mutazioni casuali del DNA e dove di fatto c'è stato negli ultimi anni, negli ultimi venticinque anni, il maggior aumento dei tumori in assoluto. Cose che spesso vengono misconosciute, trascurate, sono ignote alla gran parte non solo delle persone comuni, ma anche degli stessi medici e degli stessi, diciamo, esperti del settore. Allora da dove partiamo? Io ripeto la mia relazione dell'anno scorso perché ci sono tutta una serie di punti chiave per capire da dove siamo partiti. Quest'uomo è stato, a mio parere, non solo nella mia vita, un personaggio fondamentale. È stato un grande oncologo sperimentale, Renzo Tomatis, era anche il direttore del Dipartimento di Prevenzione del Cancro della IARC di Lione. Ho lavorato con lui negli ultimi anni della sua vita. Come vedete, Renzo ha avuto il grande merito di far capire che il cancro non è un incidente biologico, ma è appunto una patologia complessa, sistemica, che ha inizio spesso nella prima fase della vita. Non solo, per primo al mondo, io veramente credo che lo si possa dire, come vedete, questo articolo è del 1979, quindi sono passati più di 40 anni ed è comparso sulle monografie del National Cancer Institute. Ebbene, come vedete già dal titolo, Renzo ha immediatamente posto il dito nella piaga e ha fatto quasi una profezia, partendo dal dramma del Vietil Stilvestrolo negli Stati Uniti, cioè da decine di bambine con carcinoma vaginali, bambine di 10-12 anni, per un motivo che non era stato immediatamente compreso, cioè per il fatto che le madri in gravidanza avevano usato questa sostanza come un antiabortivo, ma che in realtà era poco efficace e molto tossico appunto sul feto e chiaramente aveva immaginato che questo modello non andava semplicemente limitato a quel fatto specifico, ma che probabilmente l'aumento dell'esposizione a sostanze tossiche degli embrioni, dei feti e dei bambini avrebbe dato quello che lui già diceva una sorta di epidemia di cancro nelle generazioni future, capite? La portata di un discorso come questo che è stato poco recepito, se pensate che sono passati i 40 anni. Renzo ci ha lasciato nel 2007, nel 2012 Benedetto Terracini, che era il direttore di epidemiologia e prevenzione e il professor Masera, che era uno dei fondatori della Società Italiana di Oncoematologia Pediatrica, mi chiesero di mettere a punto, finalmente, dopo tanti anni, questo tema, questo modello che avevamo portato avanti con Renzo Tomatisi. Avevo scritto questo articolo, che era su epidemiologia e prevenzione, e come l'avevo impostato il discorso. Avevo detto questa idea, appunto, che il cancro sia un incidente biologico, è legato a un accumulo di mutazioni, non tiene conto di quello che sta succedendo in campo epidemiologico. Prima di tutto c'è un aumento continuo di cancro, poi quest'aumento riguarda sempre più i giovani, riguarda sempre più i paesi del terzo mondo, riguarda sempre di più i bambini. E questo fondamentalmente, perché se voi vedete questo aumento continuo di tumori nei primi anni di vita, ha portato il cancro a essere la prima causa di morte nei bambini dopo gli incidenti. Sapete che nei bambini, soprattutto piccolissimi, purtroppo avvengono ancora molti incidenti, spesso anche casalinghi, ma tra le malattie il cancro è diventato negli ultimi 15 anni, e nel silenzio si può dire generale, la prima causa di morte per malattia. Dov'è l'aumento del cancro? Lo si registra soprattutto nel primo anno di età. C'è un aumento continuo di tumori nel primo anno di età, che adesso vedremo di tratteggiare in maniera un po' più definita, ma io qui mi fermo soprattutto alla considerazione che se noi abbiamo 130.000 tumori in Europa, adesso sono anche di più, questo era uno studio di una quindicina di anni fa, quando appunto con Renzo stavamo cercando di affrontare questa tematica, e se soprattutto l'aumento maggiore lo vedete a sinistra, questo è l'anset, questa è stata la prima revisione non sistematica, è stato il primo articolo che ha annunciato i risultati di questo grande studio dell'IARC, che faceva vedere questo continuo aumento, allora vuol dire che chiaramente è qualcosa che avviene prima della nascita, che determina, che mette le premesse di questo processo che adesso vedremo non è per niente un incidente, ma è un insieme di meccanismi essenzialmente, come già giustamente ricordava Pier Mario, epigenetici piuttosto che genetici. Subito dopo viene fuori una revisione, io vado per sommi capi ovviamente per limiti di tempo, da parte dell'European Journal of Cancer nel 2006, e si vede che in realtà in tutta Europa e non solo in alcuni paesi c'è questo aumento continuo di tumori, di neoplasie infantili, soprattutto nel primo anno di età, intorno all'1,5-2% all'anno, che sembra poco, ma se voi pensate che in 25 anni praticamente c'era stato un aumento del 50% di tumori, soprattutto alcune forme neoplastiche piuttosto che altre. Inizialmente si parlava essenzialmente di tumori diciamo di origine embrionaria, ma poi anche di tumori prima quasi inesistenti nel bambino, come i linfomi, come i tumori cerebrali, ancora più che non le leucemie, perché sapete che la leucemia linfoblastica è stata fino a 20 anni fa il tumore dell'infanzia, praticamente l'80% delle neoplasie, soprattutto nella forma più benigna che era la leucemia linfoblastica acuta, che ormai si cura, come sapete, nel 70-80% dei casi, ma invece no, come vedremo stanno aumentando le leucemie con prognosi relativamente in pausta e stanno aumentando i neuroblastomi, i rabdomiosarcomi, i linfomi, cosa che deve essere spiegata non con delle mutazioni casuali, perché non ha veramente senso. Questi studi hanno una grande forza statistica, perché questi sono i dati, dicevo, di qualche anno fa, ma insomma ormai sono una settantina di registri tumori in Europa, in 20 paesi europei, con un lunghissimo periodo di osservazione e sempre di più si conferma questo dato, vi farò vedere tra poco un articolo di Lancet del 2018 che conferma tutto questo, per cui chiaramente è il passaggio, diciamo, il periodo chiave, il periodo più importante da considerare è sicuramente quello, diciamo, dell'embriogenesi o quantomeno dell'ontogenesi embrio-fetale, senza dimenticare che una parte di questi casi, per esempio proprio l'adenocarcinoma vaginale di queste bambine, poi è stato studiato, per esempio, proprio da Renzo Tomatis a livello sperimentale e si è visto che addirittura per alcune generazioni nei topini esposti si avevano questi problemi neoplastici, per cui non è solo un fatto di trasmissione epigenetica transplacentale, ma addirittura transgenerazionale, che fa, e questo è l'altro punto chiave, che va messa in connessione con l'aumento di tutte le patologie croniche, infiammatorie e tumorali in generale, che è sempre più chiaramente legato a questa grande teoria delle origini embrio-fetali delle malattie, cioè le malattie croniche, infiammatorie e tumorali non aumentano perché il DNA sbaglia, perché accumula mutazioni, non esistono delle mutazioni specifiche, neanche per l'obesità, né per il diabete, né per la schizofrenia, né per l'autismo, tantomeno per le malattie neoplastiche e neurodegenerative, esistono piuttosto dei processi, dei percorsi che iniziano molto presto e che determinano una instabilità del genoma e una serie di modifiche genetiche che a questo punto, come vedremo, non sono la causa del cancro o per esempio dell'autismo o di altre patologie, ma sono i marker di un processo che viene attivato molto precocemente. Qui si vede, per esempio, che rispetto ai casi di attesi, l'aumento delle neoplasie infantili è ormai di 8-10 volte superiore a quella dei casi attesi. Ecco qui l'articolo di Lancet del 2018 che riconsidera gli studi, perché cosa è successo nel frattempo? Che chiaramente questo tipo di approccio, questo approccio critico alle neoplasie infantili solleva il grande problema e cioè se è vero che stanno aumentando soprattutto i tumori del primo anno, è sbagliato il nostro modo di considerare il cancro, come un incidente genetico. Quindi polemiche, quindi come potete immaginare come sta succedendo anche purtroppo in questi giorni con la pandemia, scontri di tutti contro tutti. Ebbene, dopo alcuni anni con l'enorme difficoltà di acquisire dati e di poterci ragionare con tranquillità, Lancet nel 2018 in un certo senso taglia la testa al toro, viene fuori con questo grande studio e rivede tutti i dati degli ultimi anni e conferma. Stanno aumentando soprattutto, è vero, i linfomi, ma anche a questo punto le leucemie e comunque molto, come vedremo, non so se avremo il tempo di vedere tutto, i tumori del sistema nervoso centrale, oltre che periferico, oltre che in eurobrastone. A questo punto siamo riusciti a pubblicare finalmente alcune cose su questo modello, qualcosina eravamo riusciti anche prima, ma come immaginate non è facile. In questo, per esempio, avevamo in questo articolo del 2018, uscito più o meno in contemporanea con l'articolo di Lancet, avevamo messo in chiaro che le prime fasi, che poi adesso vedremo meglio nel corso di questa relazione, diciamo di trasformazioni epigenetiche, sono fondamentali, perché come se il vecchio schema del primo colpo, del first hit, e poi del secondo colpo, che porta a una degenerazione neoplastica, in un certo senso è come dire che la fase di iniziazione rispetto a quella di promozione, spesso sono diverse, perché la fase di iniziazione inizia veramente molto presto, spesso in utero, quindi nel feto, e questo ci torneremo tra poco. Allora, a questo punto, quello che diceva Pier Mario, io cerco un po' di sostanziarlo. Come si continua a immaginare il cancro? Il cancro viene ancora definito, questo è il sito del National Cancer Institute, come un, come leggete nel titolo, random gene changes, cioè mutazioni casuali, mutazioni stocastiche del DNA. I due articoli più famosi della storia dell'oncologia sperimentale, più che clinica, degli ultimi vent'anni sono questi. Uno è quello di Vogelstein, famoso, una serie di articoli, questo è forse il più famoso di questi, che praticamente aveva identificato il cancro come malattia chiaramente genetica, sembrava una grande acquisizione, legato al fatto che alcuni geni che venivano definiti oncogeni o oncosoppressoi o gatekeepers, cioè geni che stabilizzano i tessuti, andavano incontro a queste famose mutazioni stocastiche. e Vogelstein, e poi adesso vedremo ancora più a fondo Weinberg, definivano le mutazioni driver, cosiddette, le cosiddette mutazioni base, quelle che colpivano in ogni tessuto, in ogni organo, specificamente questi geni, ed erano viste come mutazioni casuali. Queste mutazioni determinavano dei vantaggi selettivi e lo schema è chiaramente lo schema darwiniano puro, e cioè mutazioni casuali, selezione naturale e la specie cambia. Ora, questo che tra l'altro in questo famoso, forse questo è l'articolo più citato della storia dell'oncologia degli ultimi 30 anni, questo articolo degli ultimi 20 anni, vedete The Hallmarks of Cancer, in questo articolo Weinberg e Hanan definiscono quelli che secondo loro sono le conseguenze di questo modello darwiniano, e cioè queste mutazioni driver puramente stocastiche, se vengono, diventano vantaggiose, perché queste cellule acquisiscono a causa di queste mutazioni casuali su alcuni geni essenzialmente, li abbiamo visti, i geni lo vediamo meglio qua in questa figura, alcuni sono geni oncosoppressori, altri sono i cosiddetti oncogeni, se vengono modificati in determinati punti, il clone cellulare, tra virgolette, viene avvantaggiato, perché? Perché non ha più bisogno di segnali di crescita per proliferare, e insensibili ai segnali di stop, quindi tende a proliferare in maniera illimitata, quindi le cellule letteralmente si immortalizzano, perché tra l'altro evadono l'apoptose, e tra l'altro tendono a fare un'angiogenesi, cioè a stimolare i processi di angiogenesi per farsi un apparato vascolare, e soprattutto, questo lo dico subito e poi ci torneremo meglio, tendono a invadere gli altri tessuti. Che il cancro sia questo, ok, ma che sia legato a delle mutazioni casuali, proprio no. E allora immediatamente abbiamo cercato di rispondere, una delle risposte più semplici, a mio parere, corrette, è stata di un famoso biologo molecolare, nel 2010 su Nature Reviews, la Zebnik scrive, scusate, ma le stesse mutazioni che vediamo nei tumori maligni, le vediamo spesso nei tumori benigni, negli adenomi, nei lipomi addirittura. La stessa crescita smodata, ci sono adenomi e lipomi immensi, anche più grandi. La stessa angiogenesi, sostenuta, perché se un lipoma o un adenoma non si facesse una sua vascularizzazione, andrebbe in necrosi. La capacità di evadere l'apoptosi, l'insensibilità ai segnali di stock, tutto questo è tipico dei tumori benigni, e addirittura anche di alcuni stati infiammatori, come la psoriasi. Non è questo che determina il cancro. L'idea che il cancro sia questa sorta di errore funzionale delle cellule, che a un certo punto accumulano mutazioni e vanno incontro per sfortuna, perché questo diventa il termine, addirittura l'articolo sempre di Fogelstein, che aprì una delle grandi polemiche degli ultimi anni. Io ero a Parigi, in questo inizio del 2015, quando venne fuori questo titolo, e l'editoriale era ancora peggio, come vedete, bad luck. Il tumore è letteralmente sfortuna. Ebbene, abbiamo avuto ovviamente da ridire, abbiamo cercato in tutti i modi di far vedere le debolezze di questo articolo, ma questo articolo ha fatto il giro del mondo. Questo articolo è stato letto da un miliardo di persone nel giro di un mese, che ha dato chiaramente la percezione che purtroppo è così, non c'è niente da fare, l'unica cosa da fare è curare, bombardare sempre di più, perché sta aumentando questa sfortuna. Ora, capite quanto poco scientifica sia un approccio di questo tipo. Tanto più che erano già usciti articoli che dicevano il contrario, anche parecchi in modo diverso, ma per esempio questo famoso articolo su Nature nel 2010 sottolineava come la storia delle cosiddette driver mutation, più o meno stocastiche, 5, 10, era una storia, andare a cercare le driver mutation specifiche del cancro, diceva quest'articolo, come cercare un ago nel pagliaio. Perché? Perché in realtà quello che si vede in una linea cellulare neoplastica è un'anarchia del genoma. Nel breast cancer, come vedete, nel carcinoma mammario, ma anche nel carcinoma polmonare, si accumulano 20, 7 mila, 23 mila, 30 mila mutazioni, vedete lì skin cancer, in alcuni sono meno, in alcune forme neoplastiche molto pericolose, come il glioblastoma, di solito non ci sono le 30 mila mutazioni, ma insomma tutto questo non è la causa del cancro, tutto questo è la conseguenza di un'instabilità genomica progressiva che caratterizza quel tessuto che è andato per conto proprio, come sapete, all'interno dell'organismo, ha perso ogni regolazione, ma quelle che degenerano non sono le cellule somatiche che accumulano mutazioni, sono le cellule staminali del tessuto che come vedremo sono disturbate, alcune di queste sempre più chiaramente dai primi tempi della vita, per cui tendono a un'instabilità progressiva e questo continuo bombardamento che ricevono, essendo come tutti sappiamo le cellule staminali dei tessuti, quelle che servono a riparare il tessuto, queste cellule se vengono continuamente attivate, vengono continuamente bombardate, soprattutto nella prima fase della vita, ebbene tutto questo non produce danni del DNA, produce un assetto pericoloso perché crea questa instabilità e questa maggiore sensibilità a tutti questi stressors e pollutants. Perfino su giornali tutt'altro che scientifici ormai tutto questo è vox populi, cioè che pesticidi, solventi, un eccesso di radiazioni e perché no, diciamolo, poi vedremo perché lo diciamo, anche campi elettromagnetici, sta determinando un'instabilità del genoma. Quindi, ancora una volta, sono fenomeni di tipo epigenetico, non genetico, la vera causa. Per esempio, l'esempio forse più emblematico è quello delle traslocazioni. Tutti sappiamo che nel bambino la buona parte delle neoplasie, dicevamo prima, la leucemia linfoblastica, è stata per anni il tumore del bambino, ma in generale la gran parte delle neoplasie infantili sono neoplasie, diciamo, di due grandi ambiti. L'ambito delle neoplasie disembrionarie, per esempio, il neuroblastoma, il radiosarcoma, lo stesso tumore di Wilms, che nascono da residui embrionari e le neoplasie di ambito oncoematologico, perché le leucemie e adesso più recentemente anche i linfomi sono l'85% delle forme tumorali. Devo dire che anche adesso, anche a livello infantile, c'è un inizio di altre forme tumorali, come per esempio, dicevamo prima, anche alcuni linfomi e alcuni tumori cerebrali che stanno aumentando nettamente, sia benigni che maligni, tra l'altro. E benigni, come sapete, a livello cerebrale spesso sono un dramma comune. Ebbene, dicevo, noi sappiamo ormai almeno da 15 anni, da questi famosi studi di Greaves, che il bambino nasce già con traslocazioni preleucemiche, addirittura un bambino su 100 oggi nasce con una traslocazione preleucemica. Allora, qual è il problema concettuale? Come mai un bambino su 100 nasce con una traslocazione preleucemica e diciamo soltanto 1 su 10.000 poi fa una leucemia, 1 su 10-12.000? Ci sono due modi di considerare questo problema. Quello tradizionale, la lettura l'abbiamo vista, è che le traslocazioni, essendo delle aberrazioni cromosomiche, sono una sfortuna e sono non sufficienti a determinare il quadro neoplastico. Si devono associare altri fattori. Questo viene normalmente detto. La nostra idea, sempre più chiara, quella da cui siamo cominciati, abbiamo cominciato a lavorare prima con Renz, ora con alcuni passaggi ve li farò vedere, e su cui ormai lavoriamo da anni, è il contrario. Cioè le aberrazioni, le traslocazioni non sono aberrazioni cromosomiche, ma come vi farò vedere da alcuni passaggi, cominciano precocemente perché in realtà sono modifiche modifiche legate a una necessità del genoma di adattarsi, di reagire a dei fattori stressogeni o tossici che mettono in campo letteralmente quella ingegneria genetica di cui parlano personaggi di grandissimo livello e tuttora reputati eretici come Jim Shapiro. Il concetto che adesso vedremo tra poco di Natural Genetic Engineering, e cioè il genoma, è in grado di auto-ingegnerizzarsi, il genoma può prendere dei frammenti di un cromosoma e di un altro, delle sequenze geniche, e adesso vedremo come attraverso quei meccanismi che vengono ancora chiamati di riparazione, ma che appunto dovrebbero essere sempre più definiti di autotrasformazione adattativa, vanno incontro a queste modifiche genomiche complesse. quindi non sono le traslocazioni semplici abberrazioni, sono modifiche complesse del genoma. Alcuni esempi bastano veramente per far capire di cosa stiamo parlando. Questo è Seveso. Se voi andate a Seveso non trovate un aumento a specifico di mutazioni, aumentano nettamente di più alcune modifiche genomiche, in particolare la traslocazione 14-18, che come probabilmente sapete è tipica del linfoma follicolare. Perché è interessante questo dato? Vado ancora una volta rapidamente per esigenze. Perché per esempio nei soggetti che sono lungamente esposti per questioni lavorative a pesticidi, la stessa traslocazione aumenta significativamente. Questo non è poco perché significa non è la diossina come tale, non è il pesticida, sono molecole totalmente diverse, è l'organismo che è lungamente esposto a Seveso e alla diossina e negli operatori del settore agricolo ai pesticidi reagisce facendo questo tipo di traslocazione. E come vedete i numeri sono veramente significativi. Allora, ma se tutto questo è vero, ma andiamocela a guardare questa traslocazione. Dove la troviamo prima di tutto? Beh, prima di tutto la troviamo sicuramente nei linfociti che diventano in un certo senso linfociti di memoria. Ma come vedete in questo quadro che è quello tipico del linfoma follicolare una sorpresa già l'abbiamo perché la traslocazione 14-18 noi non la vediamo soltanto nelle cellule linfomatose ma per esempio la vediamo negli endoteli e questo è molto difficile da spiegare perché non si può spiegare semplicemente si è formata per caso la stessa mutazione aberrazione cromosomica in due tessuti totalmente diversi che non hanno neanche la stessa derivazione embrionaria. Evidentemente non è così. Evidentemente questi tessuti diversi fanno lo stesso tipo di percorso tanto più che se noi sul piano molecolare andiamo a vedere che cosa veramente è una traslocazione 14-18 è veramente pazzesco quello che ci troviamo di fronte perché noi vediamo un gene che è il BCL2 che è un gene antiapoptotico che viene esposto agli enhancer alla sequenza enhancer delle immunoglobuline cioè cosa significa questo? Che due sequenze separate una sul cromosoma 18 che è un gene che blocca l'apoptosi e l'altra sul cromosoma 14 vengono a trovarsi in qualche modo unite in un nuovo cromosoma che è proprio il prodotto di una vera e propria ingegneria genetica che permette questa diventa la parola in questo modo ai linfociti di diventare diciamo linfociti di memoria immortalizzandosi ovviamente come se dicessero guardate che c'è la diossina e fanno questa operazione per acquisire questa capacità di rimanere a lungo diciamo come cellule di memoria ora ma questo punto che è veramente un punto chiave perché fa capire che la traslocazione non è per niente un'aberrazione noi la troviamo anche in altre forme tumorali per esempio se andiamo in Africa le forme più note di tumore di Birkitt avvengono nelle aree in cui non c'è una sostanza tossica chimica ma per esempio nelle aree in cui c'è molto plasmodium falciparum e molto virus di Epstein-Barr questi giovani sono spesso ragazzini tra l'altro sviluppano una forma neoplastica che è praticamente sul piano genomico molto simile a quello che abbiamo visto a Sedeso solo che lo fanno in giovane età e che cosa succede che un altro gene che si chiama Cimic che è un oncogene anche questo viene esposto alle sequenze enhancer delle immunoglobuline o dei diciamo dei linfociti di memoria T allora questo è semplicemente ancora una volta chiarissimo qui ci sono tre diverse traslocazioni la 822 la 814 e la 2.8 in cui lo stesso gene Cimic viene esposto a tre enhancer che lo attivano quindi come si fa a definire un'aberrazione promosomica questo è assolutamente ingegneria genetica che ci deve spingere a considerare il genoma come un sistema in grado di fare questo tipo di soluzioni reattive se voi andate a Chernobyl ma gli esempi potrebbero essere tanti trovate molti bambini che hanno la traslocazione del C-Ret ma non fanno sempre ho dimenticato di dire non è che tutti quelli che fanno la traslocazione fanno il linfoma follicolare una parte fa il linfoma follicolare e molti no come a dire che la traslocazione è servita addirittura per le radiazioni ionizzanti abbiamo cercato abbastanza con grandi difficoltà ora vi farò vedere di pubblicare qualcosa alla luce di questo modello che sto adesso un po' raccontando brevemente la classica il classico modellino dominante è se arrivano radiazioni ionizzanti quindi con una alta frequenza e una grande energia si spacca il genoma il DNA viene rotto se viene rotto soltanto in una singola elica si hanno le single strain break che di solito non sono molto pericolose ma se vengono rotte entrambe le due spirali del DNA si va incontro alle double strain break e si apre la strada alle traslocazioni del cancro ebbene questo è un modellino che ha quasi 100 anni non ha senso alla luce di quello che si vede oggi quello che ormai vediamo sempre più chiaramente lo abbiamo anche questo in qualche modo pubblicato questo è stato un articolo che è stato accettato finalmente dopo altri rifiutati perché è ancora una volta un articolo che dice il contrario di quello che si dice normalmente e cioè non sono tanto le cellule immediatamente colpite e la double strain break meccanicamente indotta dalla radiazione sono le altre cellule cioè le cellule più danneggiate vanno in apoptosi e vengono eliminate ma altre cellule milioni di altre cellule che sono state in qualche modo turbate da questa radiazione acquisiscono un'instabilità genomica progressiva e una serie di modifiche epigenetiche per di più le traslocazioni in questa luce devono essere viste ancora una volta come ingegneria genetica non come aberrazioni errori e rotture questo in parte lo si vede anche con i campi elettromagnetici campi elettromagnetici di frequenza infinitamente più bassa e comunque normalmente non ionizzanti aprono la strada a processi comunque di tipo displastico e anche neoplastico perché perché dopo pochi minuti addirittura di esposizione delle cellule e dei tessuti a campi elettromagnetici di frequenza simile a quella dei cellulari noi vediamo già un inizio di espressione genica di proteine dello stress e se prolunghiamo questa esposizione cominciamo a vedere che nel genoma varie sequenze in particolare i retrotrasposoni si muovono questo poi ci torneremo tra poco tutto questo lo vediamo dove? in tutte le cellule ma soprattutto nelle cellule embrionarie e nelle cellule staminali nelle cellule embrionarie addirittura si vede una disregolazione del gene che esprime la DNA metiltransferasi una delle DNA metiltransferasi cioè uno degli enzimi chiave sul piano dell'epigenetica e così anche sulle cellule staminali cosa sto dicendo sto dicendo che molto prima che si abbiano le mutazioni il genoma anche rapidamente se esposto con frequenza a una serie di stressors di tipo chimico o di tipo fisico va incontro a modifiche epigenetiche di questo tipo a questo punto cambia totalmente il modello ed ecco questo era il primo dei congressi internazionali su origini epigenetiche delle malattie sempre a Londra due anni prima in cui avevo portato questo che è il modello base questa DOHAD Developmental Origin of Health and Diseases vedete c'è l'acronimo DOHAD in cui appunto io sostenevo e continuo a sostenerlo è il modello su cui lavoriamo ormai da quasi vent'anni che l'embrione e il feto ormai sono in occidente bombardati letteralmente perché in ogni placenta del nord del mondo ci sono centinaia di molecole epigenotossiche queste non danno immediatamente il danno del DNA ma danno progressivamente un alterato assetto epigenetico dei tessuti degli organi quindi la placenta sarebbe lo studio sarebbe l'organo fondamentale da studiare in questo periodo perché diventa una sorta di cabina di regia lo stiamo studiando questo è un progetto che è stato finanziato dal ministero della salute un anno e mezzo fa andiamo a rilento adesso poi mancava solo la pandemia per rallentare ulteriormente ma come vedete su alcune città tra cui per esempio Taranto stiamo cercando di verificare sia sul piano dell'epigenetica della metabolomica facciamo la spettrometria di massa e facciamo il follow up dei bambini che hanno abbiamo cominciato non da molto che abbiano un'instabilità genomica ed epigenetica dimostrata e vedere se questa teoria è valida e cioè sempre più chiaramente lo è la gran parte delle patologie croniche infiammatorie e tumorali aumenta perché fin dall'inizio della vita c'è un'instabilità epigenetica di fatto questo significa che in particolare il cancro non deve essere visto come un incidente genetico il suo aumento è legato a questa instabilità genomica progressiva e come adesso rapidamente cercheremo di vedere perfino le mutazioni sono diverse nel cancro dei primi anni di vita allora questo significa il modello che deve cambiare è generalmente un modello che ha una base epigenetica quindi di biologia molecolare ma attenzione sempre di più e lo tratteremo domani e dopodomani in un congresso ad hoc sulla biologia quantistica l'epigenetica è un modo totalmente diversa di considerare il genoma e cioè il genoma non è il DNA il DNA che vedete qui i due metri di DNA iperavvolti dentro una cellula vengono continuamente indotti a esprimersi a modificarsi nel breve o nel lungo termine dalle informazioni che arrivano quindi il flusso dell'informazione come vedete è dall'ambiente sul genoma e il genoma è in grado ed ha le necessità di modificarsi continuamente prima nel suo software epigenetico e poi addirittura nella sequenza capite l'importanza di un modello come questo è totalmente diverso da quello che normalmente viene considerato e che è ancora la base di progetto genoma secondo cui le mutazioni sono stocastiche vengono definite in modo lineare si va a studiare il polimorfismo e la mutazione per andare a vedere l'alterazione della proteina assolutamente non è così in questo modello il genoma ha il 95% del genoma non codifica per proteine anzi il 98% nella specie umana il 98% del genoma è fatto da quella parte che è stata in modo un po' sprezzante a lungo definita junk e che invece è fondamentale per cui sono trasposoni retotrasposoni cioè molecole cioè parti del genoma sequenze genomiche che hanno un'origine arcaica perché sono sequenze ancestrali di retrovirus o analoghe ai retrovirus queste sequenze e gli RNA minori che sono il gran parte del prodotto del genoma stesso fungono da sensori e insieme al software epigenetico fanno sì che il genoma continui a modificarsi ecco perché e non entrano nei dettagli dei meccanismi perché in questa sede è inutile ecco perché gli studi di epigenetica aumentano enormemente gli studi di genomica del cancro ormai sono altrettanto numerosi di quelli della genetica classica e gli studi sugli interferenti endofini che sono i più potenti modulatori e direi proprio in negativo cioè si chiama interferenti endocrini ma in realtà sono delle molecole mimetiche che fungono da pseudomorfogeni nelle prime fasi della vita ed ecco quello che già con Renzo avevamo notato Renzo ci ha lasciato nel 2007 questo era l'ultimo articolo della sua vita l'importante perché sugli annali dell'Accademia di Scienze di New York lui aveva sottolineato questo fatto cioè che il primo anno è l'anno in cui aumentano di più le neoplasie soprattutto le leucemie atipiche non la limpoblastica e in buona parte di queste leucemie il gene che è interessato che trasloca con altri 70 geni è una metiltransferasi è una istonmetiltransferasi quindi è un gene che funge che fa che codifica per un enzima fondamentale che sposta le sequenze diciamo non sulla sequenza del DNA ma su quella parte che abbiamo visto fondamentale che sono poi le code istoniche io non ho potuto in questo caso andare a vedere i meccanismi ma penso che almeno in parte li conosciate la metiltransferasi questo gene trasloca con altri 70 geni per farvi capire quello che già da almeno una quindicina d'anni sappiamo ebbene quindi sulla base di questo siamo andati a cercare se c'era letteratura abbiamo trovato per esempio interessante sottovalutato che se si espongono delle cellule a sostanze tossiche come il bigon il dipiron ovvero ad altre sostanze o anche a radiazioni ci sono delle modifiche genomiche e in questo caso viene attivato questo gene questa metiltransferasi che trasloca più facilmente si è visto anche in studi epidemiologici importanti come questo che è l'esposizione materno-fetale a essere all'origine di molte forme tumorali su questa base già nel 2014 avevamo pubblicato con Lucia Migliore che è una mia collega genetista qui in Italia qui a Pisa io in quel periodo bazzicavo più Parigi e Bruxelles questo istituto di Bruxelles dove adesso vado molto poco però avevamo messo in campo questi modelli di epigenetica del cancro e avevamo pubblicato insieme con Lucia questa che è una secondo me molto interessante review cioè noi ci eravamo resi conto che i tedeschi i patologi tedeschi del 1800 avevano capito il cancro meglio di noi parlavano di una embryonic rest theory cioè erano convinti e perché erano convinti? perché col vecchio microscopio luce vedevano il cancro come una sorta di piccolo embrione o quantomeno di tessuto che aveva delle cellule che sembravano embrionari adesso sappiamo che sono le cellule staminali attivate loro cosa sostenevano? che questo tessuto per esempio nel teratocarcinoma che era proprio il tipico tumore maligno della primissima infanzia è un tumore disembronario mostruoso come sapete ebbene questo fatto cioè che le cellule espresse nel teratocarcinoma esprimevano diciamo i tre foglietti embrionari secondo la scuola tedesca perché questo era un gamete che aveva sbagliato strada si era fermato in addome aveva ricevuto segnali sbagliati ed erano degenerati ora lo sappiamo le cellule staminali o le cellule embrionarie che poi sono la stessa cosa sono all'origine di questi processi ora l'ultimo passaggio fondamentale ma allora che cos'è realmente il cancro in questo modello non è per niente ovviamente come avete capito sfortuna non sono le cellule somatiche che accumulano mutazioni sono le cellule embrionarie le cellule staminali del tessuto che vengono indotte progressivamente a applicare quelle regole che nell'embrione sono utili ma nell'adulto diventano pericolose per esempio questo che è uno dei meccanismi fondamentali anzi è il meccanismo fondamentale alla base della capacità del cancro di uccidere perché il cancro non uccide di solito in quanto tale uccide perché dà metastasi ecco non ci sono mutazioni che danno metastasi le metastasi sono invece ancora una volta sempre a conferma di questa ipotesi che sto cercando in tutti i modi di illustrare l'epitelial mesenchymal transition che cos'è in realtà è un programma epigenetico che nell'embrione serve a far migrare le cellule nei punti dove devono migrare nell'adulto invece induce metastasi ecco è anche l'attivazione della telomerasi come voi sapete che è molto espressa nell'embrione non ha niente a che vedere con una mutazione questo signore per concludere questo scienziato tradizionale diciamo e continua a guardare lì cerca la mutazione cerca l'errore continua a pensare che il cancro sia sfortuna e non si rende conto che il cancro invece questo cosiddetto paradosso delle cellule neoplastico è la dimostrazione che invece il cancro è un processo lento disontogenetico che può diventare rapidissimo in alcuni casi in cui si ha sempre molto prima che nelle mutazioni una ipometilazione cioè si perdono i silenziatori potremmo dire del DNA che vanno a concentrarsi sui geni oncosoppressori quindi ipometilazione del DNA ipermetilazione dei geni oncosoppressori vengono bloccati i geni che servono normalmente a controllare il genoma ora capite che nel giro di un mese un anno 10 anni 20 anni tutto questo è la firma del cancro non è le mutazioni stocastiche ma sono le alterazioni epigenetiche quelle si specifiche di ogni cancro che sono le diverse metilazioni dei geni oncosoppressori allora su questa base veramente cambia tutto e come diceva già Pier Mario dobbiamo portare sempre di più la nostra attenzione su un modello che oltretutto dimostra come già diceva molto bene Pier Mario la reversibilità delle forme di alcune forme neoplastiche in vitro si vede bene questo è un mieloblasto vedete che se è esposto determinate sostanze adesso Pier Mario usa come sapete ormai da anni con grande successo oltretutto le proteine di zebrafish dell'embrione praticamente dello zebrafish perché? perché sono quelle che inducono la differenziazione delle cellule e qui vedete un mieloblasto che ridiventa un neutropilo ora questa non è stregoneria questa è assolutamente comprensibile in un modello come quello epigenetico di cui stiamo parlando assolutamente impossibile spiegarlo col modello dominante delle mutazioni stocastiche comincia ad arrivare tutto questo anche su giornali come Nature e di fatto noi sappiamo che alcune forme neoplastiche drammatiche come la leucemia promielocitica vengono già curate mediante dei farmaci che poi come l'acido retinoico non fanno altro che aprire il pacchetto diciamo dei fattori di trascrizione agendo a livello epigenetico e curando una malattia che fino a pochi anni fa era inevitabilmente mortale un ultimo passaggio vorrei fare sulle forme tumorali dell'adulto e cioè sul ruolo che come tutti sapete ha l'ipossia ha l'attivazione il vecchio effetto Warburg che è sempre più importante in queste forme cioè l'attivazione della glicolisi rispetto invece a quello che è il normale sistema dell'utilizzo dei mitocondri per produrre energia perché le forme neoplastiche perché le cellule tumorali utilizzano il fenotipo glicolitico ancestrale il che significa tra l'altro bloccare l'apoptosi e andare incontro a ipossie acidosi del microambiente che è sempre frequentissimo in tutte le forme tumorali come frequente il grande consumo di glucosio ebbene lo fa perché negli ambienti che sono tipicamente ipossici il cancro funziona meglio proprio utilizzando questo meccanismo di attivazione della vecchia chiamiamola così glicolisi e di attivazione che fra l'altro favorisce le metastasi qui in questo schema perché è uno schema però molto chiaro vedete che le cellule che sono andate secondo effetto Warburg a promuovere il vecchio modello glicolitico sono quelle che più facilmente vanno incontro alla disseminazione metastatica tra l'altro si sa che l'ipossia supporta la potenza cosa significa di fatto le cellule staminali embrionari umane tenderebbero a differenziarsi ma se si coltivano con bassa tensione di ossigeno quindi in una situazione di acidosi e di ipossia le cellule invece non si differenziano ora tutto questo lo dico anche perché mi sembra importante che per esempio utilizzare il cell food nelle primissime fasi quindi molto bene la terapia di Pier Mario utilissimo a mio parere utilizzare il cell food nella prima fase della degenerazione neoplastica o addirittura in tutte le situazioni in cui uno ha dei fattori di rischio perché chiaramente come sapete penso un po' tutti ormai di fatto il cell food agisce a tanti livelli perché riduce l'attività della lattico dell'idrogenasi quindi ovviamente blocca questa tendenza andare verso lo shift glicolitico inoltre inibisce il fattore ipossico che è l'HIF1 e favorisce la riattivazione della via mitocondriale ossidativa quindi in tutto questo a me pare che ci siano tutte le premesse per un veramente come diceva Pier Mario cambiamento di paradigma in parte queste cose le avevamo anche scritte su questo a mio parere molto bello e credo che si trovi ancora online questo giornale questa rivista che l'IOM l'Associazione Italiana di Oncologia Medica aveva messo in campo ormai una decina di anni fa in cui avevamo tratteggiato quantomeno i cambiamenti di paradigma fondamentali no avevo messo in coda ma non abbiamo più tempo non voglio farvi perdere prendere ulteriormente tempo mi pare che quello che era la chiave avevamo messo in coda alcune immagini proprio divulgative sull'effetto di alcuni cancerogeni ma insomma credo che basti anche così la cosa importante è capire profondamente quanto stia cambiando il paradigma sul piano molecolare sul piano sistemico quanto sia epigenetica molto più che genetica la parola chiave quanto si possa fare nelle forme tumorali nella prima fase sia in termini di non solo terapia come benissimo fa Pier Mario ma addirittura di prevenzione e quindi io credo che si tratti di un modello che cambia e speriamo che la cambi veramente la storia dell'approccio al cancro grazie a tutti